Buongiorno amici di Academy, l'ospite di oggi si chiama Nicola Campogrande, è un compositore, conduttore radiofonico e televisivo ed è stato per 11 anni alla guida della Filarmonica di Torino. Sicuramente ci darà utili spunti per dire il futuro. Lascio quindi la parola di Alessandro Mari e arrivederci al prossimo talk. Benvenute, benvenuti, rieccoci all'undicesimo appuntamento ormai di Haka, insomma, il nostro ciclo di talk in cui proviamo, o ci abbiamo provato ormai da 11 mesi, a dire un po' il futuro che ci aspetta. L'abbiamo fatto con interlocutori preziosi che ciascuna delle volte ci hanno permesso di avere prospettive molto diverse fra loro e oggi è un onore avere con noi un compositore, un musicista, Nicola Campogrande, che intanto ringrazio per essere qui. È un piacere. Grazie. Allora, ho un'idea che mi ronza in testa, non ha una forma, provo a dirla perché oggi ci sei tu davanti a noi. Ed è questa. Nei primi mesi del lockdown io ho avuto questa strana sensazione che il silenzio, la chiusura, avesse permesso alle mie orecchie di pulirsi in qualche modo, no? Cioè c'era questa cosa nuova quando scendevi di strada a fare la spesa e non sentivi dei dubbi. E poi, e questo mi sembrava una cosa anche inclusiasmante, devo dire, nella tragedia è una cosa di più sembra. Poi ho avuto la seconda fase che chiamerei DAD, riunioni da remoto, in cui le mie orecchie invece sono inquinate in maniera disastrosa, perché con queste cuffiette isolati dal mondo ci siamo risintonizzati su una singola cosa. Adesso forse che ci riapriamo, diciamo, mi viene da chiedervi c'è un modo in cui posso evitare i due estremi e prendermi cura delle mie orecchie in qualche modo e quindi di quello che dietro le orecchie si nasconde? Io ho scritto un libro che si intitola Occhio alle orecchie, come ascoltare musica classica e vivere felici. Esatto. E quindi al tema sono appassionato da tempo. I musicisti conoscono il silenzio, lavorano per il silenzio. Quando io scrivo una partitura uso dei segni che indicano le note e dei segni che indicano le pause, che sono naturalmente il silenzio. Quindi che ci voglia è assolutamente ovvio. C'è stato un compositore che si chiamava John Cage che ha scritto il cosiddetto pezzo silenzioso, che è il titolo a 4 e 33, in cui si prevede che il musicista stia in silenzio e ascolti quello che ogni pubblico fa esattamente per 4 minuti e 33 secondi, con una sveglia appoggiata sullo strumento o vicino al leggio del direttore. A volte si esegue con un'orchestra intera che entra, si siede e poi sta buona e ferma. Ci sono peraltro tre movimenti. Primo movimento, poi colpo di tosse eccetera, secondo movimento. Quindi che il silenzio faccia parte della nostra esperienza della musica, quando la scrivi, quando la suoni, quando l'ascolti, è ovviamente una cosa nota. Diciamo che è vero che abbiamo affinate le orecchie in questo periodo, volenti o non volenti. E il fatto di porsi le domande che tu ti poni mi sembra prezioso. Cioè se noi uscendo da questa situazione ci riappropriamo di una consapevolezza di quello che ci arriva alle orecchie, oltre che agli occhi, credo che ci guadagniamo tutti. E mi viene anche da chi faccio la domanda più sciocca in Genova del mondo, però è anche vero che tu tratti un oggetto artistico che viene da molto lontano, che si contamina nella tua esperienza con qualcosa di più vicino a noi. E come possiamo in realtà capire che nel riabituare le nostre orecchie, nel prenderci cura, quegli oggetti che vengono da lontano hanno dentro qualcosa, un'intensità, una sensazione, una vibrazione che ci fa bene in questo presente. La domanda è molto interessante. Intanto mi piace dire e sottolineare che i compositori non sono tutti morti. E qua ne abbiamo la prova. Facendo le corna, per cui quando tu dici tratti con oggetti molto lontani ti riferisci all'esperienza comune legata al fatto che soprattutto nella seconda parte del Novecento noi ci siamo abituati ad ascoltare musica classica scritta nel passato. Questo per una colpa dei compositori, nel senso che la reazione alla seconda guerra mondiale, alla Shoah, è stata una reazione di distanza, di orrore, di sacrosanto disgusto per cui per decenni non si è scritta musica gradevole. Si è scritta musica contro, che testimoniasse l'orrore del mondo. Dopodiché in sala da concerto non hai sempre voglia di confrontarti con musica ostile e quindi a poco a poco il pubblico si è messo ad ascoltare musica del passato, quella a cui tu ti riferisci. Quindi ascoltavamo Monteverdi, Beethoven, quello che vogliamo ma non la musica dei compositori vivi. Oggi le cose per fortuna stanno piano piano cambiando quindi anche i compositori viventi, rifaccio le corne, hanno diritto di cittadinanza. Questo va detto. Dopodiché quando tu parli di intensità citi una categoria che mi è particolarmente cara perché è vera una cosa che durante l'esplosione più furibonda dell'epidemia noi abbiamo cercato sollievo e conforto. Da soli, isolati, ma insomma ci siamo rapportati con esperienze artistiche in generale, non solo musicali, soprattutto consolanti. E siamo stati anche costretti a perdere un po' dell'abitudine che abbiamo sempre avuto ormai da millenni di stare tutti insieme di fronte a una piesta teatrale, un balletto, un pezzo di musica, vedere un film, questo non da millenni eccetera. Molto vero. E questo cambia abbastanza. Nel senso che se noi ci troviamo in duemila persone in una sala da concerto ad ascoltare una sinfonia di Shostakovich che ha un momento anche disturbante ma estremamente intenso, condividiamo quel momento di turbamento insieme e lo dividiamo come quando ti capita una tragedia, la racconti, i tuoi familiari, gli amici a poco a poco si smonta e poi è una tragedia. Da solo, nel chiuso della tua cameretta, tu forse non fai la stessa esperienza perché è tutta sulle tue spalle. Allora la mia paura da compositore che ama molto la musica felice, un aggettivo che ricorre nei miei titoli regolarmente, sono un cuor contento, un bichiere di mezzo pieno, per cui conosco questo tipo di esperienza, però sono un pochino preoccupato della non abitudine di questo periodo, a frequentare degli oggetti musicali o culturali che hanno addosso questo tipo di intensità. Per stare da concerto non sono ancora pieno, faticano. E secondo me questa fatica è legata a tanti fattori, ma anche un po' alla disabitudine ad andare lì, perché uno si dice ma tutto sommato faccio un viaggio, mi metto ad ascoltare lo stesso brano, sì d'accordo la vive meglio, però è quella cosa lì, pienamente. E invece no, perché quando sei tutto insieme ti apri a un'esperienza diversa, ed è lì che l'intensità diventa importante. Cioè una condivisione emotiva nel presente, diciamo. Allora se tu mi chiedi ma come facciamo ad affrontare la musica classica scritta nel passato, o io aggiungo quella contemporanea, lo facciamo così, lo facciamo stando insieme, anche perché poi l'interprete ha bisogno del rapporto con un pubblico che sta ascoltando e che è lì a vivere con lui. E se questo non accade muore la musica, invece la musica per definizione noi la chiamiamo il grande repertorio, la musica del passato che continuiamo a suonare, a cantare, quella che è stata filtrata dalla storia, continua ad essere viva e ogni volta naturalmente è un pochino diversa. Per alcune musica non sappiamo nemmeno esattamente come fosse stata pensata dal compositore. Ogni epoca poi l'ha interpretata come pensava che fosse giusto o come pensava fosse bello. Sì, sì, certo. Rispetto ai gusti, alle necessità, la dimensione delle sale, la caratteristica degli strumenti, il materiale con cui sono state fatte. Pensa, le corde di violino nel Seicento erano corde fatte di budello, cioè di stomaco degli animali, oggi sono corde d'acciaio, il che significa che sono capaci di proiettare il suono molto più lontano, suonano più forte, banalmente. Quindi già solo questo ha cambiato tutto. Fisicamente nella sala, immagino. Assolutamente. E quindi poi anche all'orecchio del musicista e di chi sta ascoltando. Quindi la musica, in particolare la musica classica che è fatta di interpretazioni e reinterpretazioni, è un fenomeno vivo. È un fenomeno che ha bisogno di due polli, come l'elettricità. Uno è, se vuoi, la partitura, che è ferma lì, è quella che noi scriviamo. L'altro è tutto ciò che accade nel momento in cui tu la affronti. Quindi qualcuno che la sta leggendo, cantando, suonando, qualcuno che la sta ascoltando e che partecipa. E che nella sua reazione determina in qualche misura la musica. Quando tu stai parlando, ovviamente stai ascoltando con tutto il corpo quello che c'è intorno a te. E quindi chi entra in una sala da concerto, paga un biglietto e si siede, non sta semplicemente godendosi qualcosa che tanto c'è indipendentemente da dove sta davvero influenzando il risultato. Ed è curioso perché, almeno nella mia, ma per me che sono una persona qualunque in quel senso, lo leggo facilmente a un concerto rock. Mi viene più facilmente a dire, beh, l'interprete là sopra, sta facendo casino e reagisce con il pubblico, piuttosto che immaginare, contro luogo comune, che è quello che hai smontato tu in questo istante, che invece nella sala da concerto non accada lo stesso fenomeno, diciamo. Accade. Allora provo a dire, perché hai detto felice, so che è un tema che attraversa la tua intera carriera, ma anche la tua sensibilità di uomo, diciamo. E questa cosa che hai appena detto, cioè la musica immagino può renderci felici, non so bene come accade, e quindi te lo imparto e te lo chiedo, ma anche può renderci felici insieme, condividendo immagino, perché la mia esperienza della musica talvolta è solitaria, mi rende felice anche nel mio piccolo, però la felicità di cui parli tu mi sembra più affascinante, non ho capito ancora dov'è, capito? Dove sia non lo so nemmeno io. Però dacci un indizio per andare a cercarla. E anche nei miei processi compositivi, devo dire che la parte di intuizione è molto, molto forte. Sono quasi un po' spaventato dall'essere psicanalizzato su come poi si montano le cose, però certamente anche la musica più felice è una musica che attraversa un periodo di gestazione e che arriva poi a un parto, che per un compositore è il momento in cui scrivi la doppia barra, che è quella che si mette alla fine l'ultima battuta, che dice ok, è finito, che è un periodo di tribolazione. Ecco, quello di cui sono assolutamente certo è che per chi scrive musica classica, come faccio io, cioè una musica che si propone come non un'esperienza semplicemente gradevole, ma come un modo di vivere il tempo con una dose di intensità diversa rispetto all'abituale, anche perché se io ti chiedo di uscire di casa, di prendere la macchina, di pagare un biglietto, di sederti, cioè ti devo dare in quell'ora di concerto qualcosa di veramente speciale. Allora, anche la musica più radiosa e felice, se deve reggere il tempo, se deve offrirsi a molte interpretazioni, se deve offrirsi naturalmente al pubblico, è una musica che raggiunge questo risultato dopo una gran fatica. Certo. Cioè, io in termini operativi sono molto scettico quando in una giornata riesco a scrivere, non so, 30 secondi di musica, che è tantissimo, tantissimo per un compositore, che 30 secondi di musica per l'orchestra vuol dire pagine e pagine. Tecnicamente lo puoi fare, ma sono appunto scettico, perché significa che non c'è nulla, che è un'idea evidentemente nata dal riflesso di cose esistenti o che hai ascoltato, che ci sono, e dici, ah sì, va bene, senti, possiamo fare così, e funziona. Non funziona. Ecco, per me non funziona. Funziona, poi di questi 30 secondi, il giorno dopo ne butto via 22 e quegli 8 magari sono un nucleo generatore da cui vado avanti. Quindi quello che posso suggerire è di essere esigenti, anche rispetto alla felicità, anche rispetto alle musiche che ci fanno stare bene, perché questo benessere non può essere semplicemente una decorazione. Molto vero. Molto vero. Qualcosa che ti deve toccare più in profondo. Allora, puoi farne un'esperienza individuale, anche perché per certi versi è vero che siamo magari 2000 persone in una sala da concerto, ma siamo 2000 individui, che vivono la musica ciascuna a proprio modo. E questa è una cosa inevitabile, anche bellissima, però il meglio è riuscire a unire queste esperienze individuali. Lì, allora, secondo me, scatta qualche cosa di anche complicato. è stato detto che scrivere di musica, come fanno i critici musicali o i musicologi, è come danzare di architettura. Cioè, è una cosa assurda. Dici, ma come? C'è la musica e tu ne scrivi. Se io potessi scrivere su una pagina, con le lettere, le parole, le frasi, quello che in qualche modo va a finire nella musica che compongo, lo scriverei, perché è tanto più pratico. E invece non funziona così, no? A me l'ho complicato tutto. Certo. Invece non funziona così. Quindi traslare quello che accade nella musica in un altro linguaggio è una cosa complicatissima. Detto ciò, quando all'uscita da un concerto, rock, jazz, musica classica, pop, quello che vogliamo, tu ti trovi a commentare con qualcun altro e a cercare questo tipo di condivisione, lì capita qualcosa di molto bello, che a volte appunto magari è molto sciocco, perché diciamo, a me ha fatto pensare a me invece a quell'altro e un altro dice a me non ha fatto pensare a niente, però ti so dire esattamente che dopo 20 secondi è entrato Lobo e dopo 40 violoncello gli ha risposto. E sono tutti modi legittimi, naturalmente, di ascoltare. Però quel tipo di energia, emozione, piacere è uno dei grandi piacere della vita, no? Sì, sì. Dei grandi difficili. Ma soprattutto vedere che non sei solo tu in quel caso. Cioè che è un'impronta che rimane un po' su tutti quelli che sono entrati. E mi viene da fare, ovviamente, la considerazione circostanziale al periodo, no? Cioè se... Intanto però ti ringrazio perché io, appunto, anch'io ho un'esperienza molto solitaria della musica talvolta e mi hai fatto ricordare che non è sempre stato così. Perché in questi due anni me lo sono in parte dimenticato. Non magari per colpa mia, ma per circostanza. Purtroppo il mondo ci ha imposto in qualche misura di avere consolazione singola, diciamo così, nella musica. È anche vero, come dicevi però, che insomma, il gesto di partecipare insieme alla musica in uno spazio sta riprendendo più a fatica. Possiamo fare qualcosa, c'è qualcosa... Perché poi tu sei anche nella tua grande carriera hai anche fatto non solo musica, ma melodrammi, insomma, hai fatto un po' tutto per invitarci in un posto a venire a sentire. Possiamo fare qualcosa o c'è un segno che va rimesso nel mondo affinché la gente, insomma, trac, stacchi il sedere dalla sedia e vada? Ma credo che si possa essere ambiziosi. Innanzitutto da parte degli artisti, perché se no è molto comodo sederci su una situazione consolatoria e per ovacqua e allora vuol dire che poi a un certo punto arriverà qualcun altro che riesce a toccare l'intensità che tu avevi smesso di cercare. A teatro, per esempio, trovo che questa cosa è molto forte adesso. Cioè, il fatto che la scena teatrale, quella italiana in maniera particolare, sia fatta di monologhi, riflessioni che talvolta diventano nemmeno un recitare ma un parlare. Non mettersi lì e direbbe il teatro adesso è questo. Mi siedo qua e vi dico una cosa. Questo lo trovo proprio sbagliato. Lo trovo triste, lo trovo deludente da parte di tutti. Dopodiché non è il pubblico che chiede di abbassare la soglia di ambizione teatrale. È una proposta che arriva dal teatro. Da parte della musica per fortuna le cose sono più complicate e questo è un vantaggio perché ci vuole più tempo a semplificare una pratica eccetera. Quindi non sta accadendo questo. Però ho l'impressione che se noi come soggetti chiediamo alle esperienze culturali e di spettacolo che viviamo una maggiore pregnanza, intensità, cioè che vogliamo tornare a casa dicendo porca mi saremmo fatto proprio una cosa che mi ricorderò bellissima, magari bruttissima per carità. Però memorabile valga la pena, cioè non era come andare a bersi una birra, è stato proprio diverso. Ecco, su questo credo che dobbiamo mantenere alta l'ambizione da parte dei fruttori, la soglia. Cioè se io esco di casa, diamine, mi devi dare qualcosa che valga la pena. Io vorrei, cioè avrei piacere tremendo, non so, di chiudere questa intervista facendo suonare qualcosa in questo momento e condividerla con te. Però mi viene da fare istintivamente un'altra cosa. Dieci secondi di silenzio. John Cage, facciamo un'esecuzione ridotta. Facciamo un'esecuzione ridotta, io conto con le mani e poi ci salutiamo. Va bene. Ringrazio Nicola Campogrande. È stato un piacere. Mio perché mi hai ricordato che posso trovare felicità nella musica ma insieme agli altri e penso che questo sia tutto sommato il momento storico in cui ce lo dobbiamo non solo ricordare ma agire come pensiero e me l'ero dimenticato. Grazie anche a tutti voi e ci vediamo alla prossima.